L'interrogazione numero 3761 dei deputati a Scania ed altri concernente intendimenti in ordine alla revoca della sanzione inflitta ad una docente in servizio presso un istituto tecnico industriale di Palermo, iniziative volte ad assicurare adeguate sanzioni nei confronti di docenti che diffondono messaggi di ispirazione xenofoba e razzista. La deputata Lucia Ciampi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per un minuto. Prego collega. Interviene la deputata Ciampi del Partito Democratico. Grazie signor Ministro. Il diritto di critica è disciplinato dall'articolo 21 della Costituzione. Il ruolo dell'insegnante è quello di formare coscienze critiche. Questo è l'obiettivo massimo. I recenti fatti che hanno coinvolto una docente d'italiano in una scuola di Palermo, sospesa per 15 giorni per non aver vigilato sulla realizzazione di un video in occasione della giornata della memoria, in cui si accostavano le leggi razziali del 38 al decreto sicurezza, sono da considerarsi ingiustificati, lesivi dei principi costituzionali e di libertà di insegnamento e di espressione. Una docente lo sa bene, Ministro, non può sindacare la libertà di espressione degli alunni e la sua libertà di insegnamento è tutelata dalla Costituzione, purché non oltrepassi il limite del buon costume e non minacci l'ordine pubblico. Invece hanno oltrepassato i limiti del buon costume post pubblicati da un docente dell'Istituto Alberghiero di Mestre, in cui, gliene risparmio altri, cito solo uno, la senatrice a vita segre sta bene in un simpatico termovalorizzatore. Allora, nonostante che il Ministro interrogato, concludo, Presidente, abbia dichiarato l'urgenza di dover assumere iniziative e misure sanzionatorie nei confronti di questo docente, non risultano, peraltro, ancora iniziate le iniziative nei confronti dello stesso e, a differenza degli annunci, la sospensione della professoressa di Palermo non risulterebbe ufficialmente revocata. Ecco, sono qui a chiederle questo. Grazie, collega. Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Marco Busetti, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie, Presidente. Onorevole Ciampi. Rispondo alla sua interrogazione ricordando preliminarmente, da circa 25 anni, l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione italiana è fondata sul principio della netta separazione tra organi di indirizzo politico, avendo il compito di definire gli obiettivi, i programmi da attuare e di riverificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, alle direttive generali impartite, e i dirigenti, ai quali invece è affidata la gestione amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti disciplinari. In forza di tale principio, nessun Ministro, neanche quello dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, può sanzionare disciplinarmente un dipendente pubblico, né può revocare, come nel caso della professoressa di Palermo, una sanzione disciplinare combinata da un dirigente. Voi anche inoltre precisare che secondo una normativa vigente, che è l'articolo 55 del Decreto Legislativo 165 del 2001, la competenza a erogare sanzioni disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti appartiene, a seconda della gravità dell'inflazione disciplinare, al responsabile della struttura di appartenenza, nel caso del personale della scuola, il dirigente scolastico, ovvero all'ufficio per i procedimenti disciplinari, incardinato, per quanto concerne l'amministrazione scolastica, nell'ufficio scolastico periferico. Ciò premesso, posso comunque confermare che i competenti uffici del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca sono in questi giorni impegnati a verificare con i legali della professoressa la praticabilità giuridica di una conciliazione dell'avvertenza. L'ITER si sta portando avanti. Quanto invece alla richiesta di azioni disciplinari nei confronti dei docenti che incitano alla xenofobia e ad altre forme di razzismo, ne arriva a dire sempre che il Ministero non può sanzionare un docente e più in generale un dipendente scolastico, voglio rassicurarle che i competenti uffici del mio di Castero, nel rispetto delle norme vigenti, provvederanno a sanzionare qualsiasi voglia forma di razzismo o intolleranza possa in essere in ambito scolastico, sia che provenga dal personale scolastico, sia che provenga dagli studenti. Non dobbiamo infatti mai dimenticare che la scuola, come diceva Pietro Calamandrei, è un organo centrale della democrazia e la democrazia deve permettere ad ogni uomo la sua parte centrale di sole e dignità. Grazie. Sono in corso le procedure di conciliazione con il Ministero che però non può revocare la sanzione inflitta da un dirigente ad un docente, questo riguardo alla sospensione della professoressa di Palermo, così il Ministro Bussetti. Non sarà assoluto la responsabilità politica di quello che è accaduto rifacendosi a responsabilità di altri. Il Ministro sa che quella sospensione è stata combinata per omessa vigilanza e che la colpa invigilando di un docente è sull'incolumità fisica dei ragazzi. Non si può vigilare sulle opinioni dei ragazzi a scuola. Non si può. E lei da Ministro non lo deve consentire. Peraltro Ministro non la preoccupa che la Digos entri a scuola per verificare cosa è accaduto durante un'ora di lezione. Perché quando invece un docente inneggia apertamente al nazismo nessuno se ne occupa. Lei da Ministro non è preoccupato del fatto che la Digos chieda alla dirigenza scolastica che cosa è accaduto in un'ora di lezione. Lei non è preoccupato per l'autonomia degli insegnanti, per la libertà dei ragazzi. Lei non ha detto una parola su questo. Non ha espresso un'opinione su questo. Non ha detto assolutamente nulla. Probabilmente perché nulla aveva da dire. Lei, Ministro, qua fuori si è fatto una bella foto in cortile quando abbiamo approvato la legge sull'educazione civica. Forse le è sfuggito che in quella legge noi abbiamo affermato il principio che l'autonomia critica, quella di cui parlava la Montessori, è ciò che la scuola deve promuovere. Allora lasciate in pace la scuola, toglietevi le manie di controllo sulla scuola e preoccupatevi della qualità del sistema scolastico che forse l'educazione civica, ancor più che ai nostri ragazzi, serve a lei e al vostro governo. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3762 dei deputati Rolobrigida ed altri concernente chiarimenti e iniziative in ordine agli indirizzi politici nel settore della difesa tutela dell'immagine e della professionalità dei deputati.